Il nostro cervello percepisce il silenzio come se fosse un suono. Scienziati e filosofi dibattono l'argomento da molto tempo e vi sono ricerche continue e sviluppi differenti. La domanda è, esiste il silenzio? Se pensiamo al silenzio come assenza di suoni, immaginiamo il silenzio ma non lo odiamo. Eppure quando suoniamo un brano oppure ascoltiamo un'esecuzione musicale, avvertiamo le pause, vale a dire i silenzi. A chi non è mai capitato di parlare con qualcuno e di fare delle gaff, seguono silenzi interminabili. Come si legge su un interessante articolo riportato sul sito dell'Università di Padova, ilboalive.unipd.it. Tre ambiziosi studiosi dei Dipartimenti di Filosofia e Psicologia Cognitiva della Johns Hopkins University hanno provato a spiegare l'argomento con approccio sperimentale, coinvolgendo mille partecipanti. Secondo i risultati dello studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science il modo in cui elaboriamo il silenzio è molto più simile a quello in cui percepiamo i suoni. Il silenzio diventa un'illusione in quanto è la conseguenza di momenti di quiete che si alternano a quelli sonori. Se però rimaniamo in silenzio e ascoltiamo, ci rendiamo conto che il silenzio assoluto non può esistere. Parliamo dunque di silenzio relativo ad un determinato spazio e determinati momenti. John Cage, scrittore, compositore e teorico musicale statunitense, esponente delle avanguardie musicali, morto nel 1992, sperimentò la camera necoiaca. Si tratta di un laboratorio organizzato in modo tale che si riduca il più possibile il fenomeno di riflessione delle onde, sonore e magnetiche, sulle pareti. Il termine, anecoica deriva dal greco e significa, privo di eco. Che che già studiato il suono e pertanto anche il silenzio, la visita a questi laboratori fu chiarificatrice. Egli descrisse così la sua prima visita alla camera anecoica dell'Harward University. Entrando nella camera anecoica, mi aspettavo di non sentire alcun suono, ma nella camera ho sentito due suoni. Da qui, Cage ne deduse quello detto prima, il silenzio è un'illusione uditiva. Sono celebri i suoi 4 minuti e 33 secondi. Il brano può essere eseguito o meglio dire non eseguito, da qualsiasi strumento musicale o ensemble. L'indicazione dell'autore è di non suonare. L'intenzione del compositore consiste nel far risaltare i suoni dell'ambiente in cui viene eseguita, mettendo così in primo piano l'ambiente stesso. Molto interessante è notare che 4 minuti e 33 secondi corrispondono a 273 secondi che riportati al concetto chimico di zero assoluto corrispondono a meno 273 gradi Kelvin, cioè la temperatura dello zero assoluto che non prevede forme di vita. Impariamo ad ascoltare e a ricavarci dei momenti silenziosi. Ne ricaveremo in salute.